Al calar della sera sia il Palazzo del Comune che l'antico Castello Arecchi si sono colorati di granata, un omaggio alla storia della Salernitana che oggi ha raggiunto il traguardo dei 101 anni, appuntamento che nemmeno l'emergenza Covid è riuscito a far passare in sordina. Pur non potendo ripetere le immagini di festa che 12 mesi fa hanno fatto il giro del mondo, Salerno ha celebrato con grande partecipazione la data in cui i soci fondatori diedero vita al calcio nella città d'Arecchi e non a caso gli Ultras hanno scelto di illuminare di granata proprio l'antico Castello, simbolo identitario dei Salernitani, uno spettacolo a cui è assistito anche il covatron Marco Mezzaroma che ieri sera, approfittando della sua presenza in città, ha fatto tappa in via Roma insieme al sindaco Enzo Napoli e all'assessore Angelo Caramanno. Fesseggiamenti che hanno interessato non soltanto il capoluogo ma anche la provincia, dove tra canti, fumogeni e cori si è attesa la mezzanotte per accompagnare nel nuovo anno la Salernitana. Stamane invece nel Duomo è stata celebrata una messa in ricordo di tutti i tifosi Granata scomparsi, un'iniziativa organizzata dal club Generazione Donato Vestuti e che ha visto la partecipazione di amministratori ed esponenti della tifoseria Granata. Sempre oggi l'associazione 19 giugno 1919 ha lanciato sui social la mappa storica dell'Unione Sportiva Salernitana che suggelle il legame tra la squadra e la città, riportando tutti i luoghi simbolo che hanno caratterizzato l'ultracentenaria storia della Salernitana.